E benvenuti alle finali di Schissi. Voglio un gioco maschio, pulito, senza colpi bassi e senza schizzi negli occhi. Combattete! E dopo la regola di Sedrissio Marbito comincia la fase di studio dello schizzame. Vediamo i due che cominciano, insomma cercano di trovare un'apertura nella difesa dell'avversario. Fase di studio, vediamo. Bruno carica il colpo. Vediamo, non capiamo se l'ha preso negli occhi, in bocca. Vediamo il replay. E pare che sia forse in bocca. Vediamo cosa dicono i giudici. E Bruno, 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 l'oro vince. Bruno, l'oro degli Schissi. Gino, insomma, è molto contento, un po' traviato. Se ne va, sono scene che non vorremmo vedere. D'altra parte lo sport dovrebbe avvicinarci un pochino tutti. Vediamo la prenessione. Bruno prende l'oro e Gino l'argento. Vediamo cosa fanno i due sul podio. Si danno la mano, siamo tutti più contenti. Le vamo li e li vai con l'imno. Grazie. Grazie. Grazie.